Ciao a tutti, bacioni enormi dalla vostra amica e poi c'è sempre il mio Jay, ciao Jason! È sempre qua con me ormai, con il Play With Me, lui ormai mi fa compagnia, nemmeno amore? Nuova settimana e questa settimana è quella che va da lunedì 29 a domenica 4 agosto, perciò da luglio passiamo ad agosto, la settimana sta volando il tempo, fa niente. Come avete letto, tema cactus perché mi era stato richiesto un po' di tempo fa già e ho usato questo, che non mi ricordo dove l'ho preso, non lo so, forse sempre, no, questo sono sicura che l'ho preso dal D, infatti ho diviso un po', ho fatto le pagine un po' più grandi, ho fatto un po' un casino con questo Play With Me, c'è un casino, l'ho ingrandito un bel po', ci sarà una decorazione un po'. Ecco, però fa niente, tenetemi così, questa nuova settimana è così, cactus bello grande e niente, ho usato questi due, li ho alternati perché con questo qua con il rosa ho finito luglio, praticamente 29, 30, 31 e con quello verde ho iniziato agosto, però appunto è sempre tema cactus, perciò ho voluto cambiare colore, insomma ecco è, e poi in mezzo ci metterò il mio divisorio, poi vi faccio vedere dopo quello di agosto, quello ho tolto dall'agenda, dopo lo mettiamo in agenda, vi faccio vedere bene. Adesso andiamo a segnare i giorni e ho preso il rosa e il verde, il rosa per appunto questi qua e il verde di là, insomma, andiamo, bando alle ciance, mica vai avanti. Allora, qua è 29, che è lunedì, e ahimè ho finito le ferie, si lavora. Poi, 30 martedì, ok, e il 31 mercoledì. Ok, e poi si va di qua e c'è l'uno che è giovedì, ok, poi il 2 venerdì, poi il 3 sabato, il lavoro, e poi domenica il mio meritato relax. Ok, lo scriviamo. Andiamo a colorarlo, e poi andiamo ad attaccare tutti gli sticker che ho stampato sulla mia carta adesiva per stampante da Pinterest, bellissimi tutti con gli ananas. Adesso coloriamo prima qua e poi andiamo ad attaccare il nostro, aspettate, ok. Poi sì, non mi sono dimenticata di tutte le altre decorazioni, la ragazza che mi ha chiesto quella di danza, la farò, non preoccuparti. Poi c'è anche il mio tesorino, Antonella Usai. Ciao tesoro, chi mi ha chiesto decorazione, musica, farò anche quella. E niente, qua, 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 ok. Ok, adesso, vabbè qua, mettiamo già sul lunedì il video agenda, sempre con i saluti per chi non lo sapesse neancora. Ok. Eccoci qua. Adesso andiamo con quello che sono gli sticker, tutti cactus. Aspettate, piantine, cactus, insomma, un po' di tutto. E sono fatti così, adesso andrò a cercare. Prima di tutto li attacchiamo nella parte rosa, qualcosa appunto con il rosa. Io direi di fare così qua. E poi questo qua. E questo qua. Facciamo così, dopo attacchiamo gli altri con un po' più di verde nella parte dove c'è il washi verde. Il paper tape verde. Aspettate che prendo la mia carina, così. Ok. C'è uno puccio così. Ecco qua. Poi attacchiamo questo un po' più alto lì. Sti washi qua, il paper tape qua, sono stupendi. Questo poi con, come si dice, gli inserti qua in fuori. Abbiamo anche questo qua, c'è gli ala e il verde. Stupendi. Qua, siccome la pagina è un po' più grande, non chiedetemi come mai faccio in quella maniera qua. Ma perché ho tutti i miei giri. Ok. Così almeno ci stanno più. Stick. Andiamo, lo attacchiamo. Ce la posso fare, eh? Ce la posso fare. Dopo lo mettiamo in agenda, vediamo meglio com'è tutto l'Ambaradam. Ecco qua. Mercoledì, vi dico già, penso ci sia... ... ... ... Ecco qua. Oggi almeno lo sapete, spoilerata. E qua nel verde ci mettiamo questo, che è proprio un bellissimo cactus. Lo mettiamo qua sulla domenica, così. Ecco qua, dopo vi faccio vedere bene. Adesso scusate, sono ogni tanto sposto. Poi mi andavo a rimettere anche questo, che è proprio... Ma io sono proprio... ... ...pazzoide, questo qua non è cactus, è ananas. Fai niente. Ho messo il... ... ... È il caldo, ragazze. Qualcuno di voi si sarà già accorte. Scrivetemelo nei commenti se vi eravate già accorte. Ma come mai? Ma è il caldo, già stamattina sono fuori di testa. Qua ho messo le piantine cactus. Io avevo in mente che anche questo era cactus. Invece era un ananas. Ma... No, veramente. Cioè, alla neuro mi rinchiudono. Mi rinchiudono. Mi rinchiudono. Fai niente, teniamoci l'ananas col cactus. Ma che... ... ... ... ... Pazienza che dovete avere con me. Scrivetemi nei commenti. Ti sopportiamo, Monica? Ti prego. Non cambiare lo stesso. Ma niente. Abbiamo messo l'ananas. Cioè, più bambosela dei stessi. Vabbè, pazienza. Tenetemi così. E qua attacchiamo un'altra piantina. Sì, ma l'ananas non c'entra niente. Però fa niente. Proprio un bergamasco dove dico fa niente. Lascio così. Non c'ho voglia di sprecare. Washi, tirarlo via e rimetterne un altro col cactus. Non c'ho voglia. Va bene lo stesso così. Dai, che sta bene comunque come decorazione. Cioè, veramente. I 40 anni si fanno sentire. E poi fuori di testa anche. Va bene. Aspettate che prendo l'agenda così. Inseriamo dentro tutto. Chissà quante di voi si sono accorti. Subito, Monica, ma quello lì non è un cactus, è un ananas. Stattati, credo. Che fuori. Che fuori. Poi aspettate così. Adesso vi faccio vedere come sistemo. Ebbene, tutto va bene. Tutto reale. Io sono così reale. Vi mostro anche i miei errori. Fa niente. Chi se ne frega. Sono umana. Pazienza. Pazientate. Allora, adesso vi faccio vedere. Questo qua è quello della settimana scorsa. Tropicale. Aspettate, forse indrizzo. Forse è meglio. E questa. Sì, questo Washi va anche bene. Questo c'ha gli ananas. No, ma io sono andata proprio tranquilla. L'ha capito? Proprio diretta. Uh, guarda, anche questo è un ananas. E' un... Si, vedi che straparlo ancora. Il cactus invece è un ananas. Va bene, ragazze. È andata così anche questa settimana. La pazzia della mica. Ve la rendo partecipe. Allora, questo così, appunto. Che sono il 29, il 30 e il 31 di luglio. Poi si va ad agosto. L'1 e il 2, sì. Con gli ananas e il cactus che non c'entrano. Però fa niente. Va bene, lo stesso, dai. I colori ci stanno. Almeno quello l'abbiamo abbinato. Poi c'è il mio divisorio. E poi qua andiamo fino alla domenica 4. E pazienza, teniamocelo così. E niente, adesso faccio i saluti. Poi credo, adesso non lo scrivo, ma penso che venerdì ci sarà il video taglia perché dovrebbe arrivare la collezione nuova. e perciò, niente, lascio così, così. Facciamo i saluti. Tenetemi così. Allora, devo salutare. Rossella Annunziata, ciao. Mary96, ciao. Carlo Armando, ciao. Marti08, ciao. Francesca Brocchi, ciao. Poi Lily and Loli, che carino che è questo, ciao. Poi Gioia Barnaba, ciao. Michela Fischetti, ciao. Lorena Di Piazza, ciao. Gavino, ciao. Aida, ciao. Olivia, ciao. Giorgia P, Giorgia Perrotta, penso che sia comunque Giorgia P, ciao. Poi Mai La Stella, ciao. Michelle Cialco, o Calco, spero di aver detto giusto. Ciao Michelle. Poi Carlo Armando, ciao. Elisa Giulivo, ciao. Poi Melissa Caponetto, ciao. Maddi Sette, ciao. Rossella Annunziata, ciao. Roberta De Giuli, ciao. Angela Cecinati, ciao. Alice Cardellin, ciao. Paci Alessa, ciao. Auri, ciao. Federica Botto, che oggi è il suo compleanno, tanti auguri tesoro, ciao. Poi Elena, spero che non sia Elena, però penso Elena. Toninelli, ciao. Giorgi Cantelli, ciao. Se ho dimenticato qualcuno, vi ricordo sempre che vi saluto la settimana prossima, scrivetemelo nei commenti. Ogni lunedì, io li saluto e li faccio solo nel video del lunedì dell'agenda. Ricordate perché ci sono alcune che non lo sanno ancora, giustamente magari arrivano adesso sul mio canale o quello che è, e perciò è questo così. Poi, niente, io vi faccio una buona settimana a tutti, e questo è stato il nostro programma di questa settimana lunedì, e vi do appuntamento sempre in settimana, che ci sono appunto altri video, non c'è solo quello del lunedì, sempre per chi non lo sa, perciò mercoledì, venerdì o giovedì, quello che è, dipende, comunque ci sono sempre gli altri video che non sono agenda, logicamente, perché l'agenda è solo a lunedì, e niente, appuntamento in settimana in compagnia della vostra Annika. Ciao ciao, buona settimana a tutti!